Musica Buonasera ragazzi Buonasera a tutti Andiamo a divertirci e ci vedremo domani Tranquilli e beati Tranquilli e beati Senti ma qual è la prova che a livello di divertimento Secondo te è in grado di darvi di più? Quella di stasera? Come prova speciale? A livello di divertimento e lascia perdere i tempi Come faccio la notte è sempre la notte Con i fari è sempre spettacolare per tutti Sia per noi perché per il pubblico E quindi la risposta è sì Alla prova di oggi Alla SISEM Che ricordo La prima è già partita perché Lo start della PS1 era alle 16.27 Quindi ormai da una mezz'ora circa Mentre la prova numero 2 partirà alle 19.47 Ricordo che è un tracciato di 4,9 km Mentre domani si correrà la Val Saviore 9,450 km alle 8.42 e alle 12.44 Poi la Astrio alle 9.46 Alle 13.48 e alle 17 Alla prossima Cosa évece Grazie 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 Grazie. Grazie.